va va buona buongiorno buongiorno a tutti noi siamo qui noi siamo qui in compagnia Toy Radio Group stiamo riprendendo è un po' storia Toy fondatore fondatore Toy vicepresidente credo che voglio andare in sala perché è storia è un po' storia picca non ti riesce a vedere cosa che vedete? è dopo o no? dopo inizia la scheda inizia la scheda inizia la scheda inizia la scheda ecco ma le fai immagini bellissime veramente belle a posto adesso basta basta gopro termina la registrazione URU aspetta c'è ma la dura è fermata con la voce ma no non mi ha attivata non mi ha attivata gopro termina la registrazione bomba a posto scherzo ascolta ti uso la valigia